dovrà sfilarla dalla testa del re è il volto della squadra sorpresa della giornata con la prestazione odierna si è mostrato alla massima serie ora tutti sanno che va temuto il numero 95 dribbling, corsa, tocco di prima, intelligenza tattica e freddezza al momento dovuto la miglior difesa della Lega 2013-2014 è costantemente messa in pericolo dai suoi movimenti senza palla che aprono voragini sul terreno dello Sport City Diego Di Vittorio, voto 8,5, trascinatore con il gol del 3-3 sfila a Nardecchia il titolo di MVP della partita il destro che regala il pari ai suoi però è solo la ciliegina sulla torta per il regista a tutto campo del De Angelis davanti a sé ha un mostro sacro della Lega come Luca Cichella ma il numero 20 degli ospiti supera pieni voti l'esame illuminando con giocate mai banali le trame offensive del suo De Angelis Daniele pensa bene, voto 7,5, geometra la prima volta è sempre la prima volta ma per Matteo Dell'Anno non poteva essere più dolce il battesimo nella massima categoria non spaventa il piccolo attaccante della San Giovannella che con una fantastica tripletta guida i suoi verso un esordio con i fiocchi Matteo Dell'Anno, voto 8,5, spietato Campioni che vanno, campione che viene Luca Severini ha raccolto a pieno l'eredità dei numerosi esodati dell'M Servizi Gianicolo una tripletta è il modo migliore per presentarsi e lo è ancora di più si arriva in rimonta e nei minuti finali potenza e concretezza mostrati in 4 World Cup sono destinati a durare più di un sogno di una notte di mezza estate Villari ha il suo nuovo incursore Luca Severini, voto 9, dottor destino Luca Severini, voto 9, dottor destino